Nel corso del campionato prepara a valorizzare i giovani o utilizzerà come nello scorso campionato i 11 soliti titolari? Io credo che una squadra che ci auguriamo di fare tante partite in campionato e sono assicurate in Champions non si sa quante partite faremo, né tantomeno non si sa quante partite faremo in Coppa Italia, è indispensabile utilizzare i più giocatori possibili perché in generale l'allenatore ha in testa gli 11, però dopo ci sono tanti altri aspetti che bisogna considerare che sono sicuramente l'ambiente che c'è nel gruppo e quindi la motivazione che tutti devono avere, il fatto che tutti debbano sentirsi coinvolti nel progetto perché il fatto di avere il gruppo completo dei giocatori motivati significa allenamenti con più intensità e questo fa crescere il livello qualitativo della squadra e quindi sono convinto che la rotazione in una squadra che gioca le tre competizioni è indispensabile.